Quali sono i prodotti che servono per essere inseriti all'interno di un processo e per fabbricare dei prodotti, possono essere macchine utensili, possono essere macchine che entrano dentro processi chimici come degli estrusori, dei mescolatori, dei trasportatori, può trattarsi di una situazione di trattamenti termici piuttosto che processi galvanici, cioè situazioni abbastanza complesse. Nella nostra esperienza possono capitare due situazioni diverse quando uno vende un nuovo macchinario. Chiaramente vende un macchinario certificato CE con la sua marcatura che risponde ai requisiti delle direttive europee che sono attinenti a questo prodotto. Potrebbe essere la direttiva macchine, la direttiva dei prodotti a pressione, la PED, prodotti che trattano sostanze esplosive, quindi in ATEX eccetera. Questa macchina può essere inserita all'interno di una linea vecchia, quindi non marcata CE, o di una linea nuova che invece sarebbe già a posto. Se questa nuova macchina va inserita in una vecchia linea, che quindi non è marcata CE, viene in mente di sistemare tutta la linea. Cioè è inutile avere una macchina che da sola sarebbe sicura, ma inserita in un contesto del quale non abbiamo documentazione e non abbiamo una tranquillità che la macchina sia a posto. Dal punto di vista del fabbricante è importante, perché se succede qualcosa, e non tiriamo augurio di cattivi eventi o di lesioni, ma certamente sarebbe bene di essere tranquilli che l'inserimento di questa nuova macchina all'interno di una vecchia linea sia molto chiaro, nel senso che la macchina deve comunque conservare la sua individualità e essere sicura. Oppure vedere se è possibile integrare i sistemi di comando, fare una valutazione dei rischi complessiva e poter marcare CE tutta la linea. Se invece stiamo parlando di inserimento di una macchina nuova all'interno di una linea tutta sommato recente, che ha diciamo 10 anni, 15 anni, quindi da quando già esisteva la direttiva macchine e quindi la marcatura era possibile, bisogna valutare se l'inserimento di questa macchina, marcata CE, va ad alterare la marcatura di tutto l'insieme, il che sicuramente succede, perché chi ha fatto la marcatura di tutta la linea e la valutazione dei rischi senza quella macchina o con una macchina diversa, non può certamente garantire questa nuova situazione. Quindi va valutato bene, ok, macchina marcata CE con dei rischi residui, un suo manuale, ma è meglio valutare cosa succede a tutto l'insieme e vedere di rifare la marcatura.